Ricominciamo con la musichetta alla fiera del Mastro Andrè? E' arrivato l'arrotino l'ombrellaio, ventunesimo nome per la panchina che vi annuncerò tra poco in questo video. E dunque, metti subito un like, iscrizione se ancora non l'è fatta e iniziamo! Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon venerdì 10 di maggio a tutti e a tutti. E bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Ormai, ma manco il grande fratello c'è un casting del genere, ragazzi, siamo il top dello show proprio, proprio allucinogeno. Dunque, grazie a tutti i nuovi di noi iscritti al canale, come sempre, grazie a tutti coloro che per aiutare questo canale, a parte i like e crescere, condividono i vostri social, facendo anche iscrivere parenti, amici e conoscenti. Ma oggi voglio iniziare soprattutto con un bel applauso alla Dea. Mamma mia che Dea! Mamma mia che Atalanta! Tre per Marsiglia e a casa i francesi. Complimenti, ragazzi! Complimenti! Io gli auguro di vincere l'Europa Liga e l'Atalanta. Al di là della rivalità, ragazzi, se lo merita, dai su! Cioè, voi immaginatevi se fanno il loro doblete con Coppa Italia e Europa League. Cioè, c'è solo da togliersi il cappello al lavoro di Percassi prima e di Gasperini. Poi, cioè, sul campo è qualcosa di allucinante. Ma l'avete visto la partita lì? Cioè, stiamo parlando del Marsiglia, una squadra che, ovviamente, a livello di nome, a noi ci ricorda anche una ladrata che ci hanno fatto nella finale di Coppa Campioni. Nel lontani anni 90, con quella testa di poligono, poi erano tutti dopati. E alla fine noi, però, non è che abbiamo chiesto come qualcuno lo scudetto di cartone. Volevamo la coppetta, quella lì, che si gonfia di plastica, finta. Non l'ha... è rimasta lì al Marsiglia. Vabbè, comunque... Alla fine, Atalanta, come la Fiorentina, ci saranno due squadre italiane in due delle tre di finali delle Coppe Europee. Atalanta se la giocherà col Bayer Leverkusen, dopo che la Roma, ieri, clamorosamente, con due rigori, era riuscita anche quasi a, non dico ribaltare, ma era perlomeno arrivare alla pari. Cioè, sul 2-0 andata Leverkusen, poi è crollata la fine. E guarda un po', casualmente, il karma. Chi fa l'autogol? Mancini. Eh, 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 tutto torna. Vedi quello che era successo col Milan? Perché è nato da un'azione irregolare. Vedete il karma, com'è bello. Tic-tac-tac, poi, prima o poi, acchiappa tutti quanti. Perché gira, gira. La ruota del Samsara. Andatevi a leggere. Anzi, c'è un bellissimo film, se non l'avete visto. Samsara, che proprio ve lo spiega perfettamente come il ciclo della vita. Bellissimo. Tra l'altro, non so se era stato anche uno dei premi Oscar, ma è un film degli anni 90, credo. Però, a che vedere col buddismo, ovviamente. E dunque, Mancini fa gol nella sua porta. Dopo che il gol che era stato fatto con il Milan era irregolare, nato da un'azione con un Lukaku in fuorigioco. La linea ha quel gol. E alla fine, zacchete, se l'è fatto proprio nel momento decisivo che la Roma avrebbe potuto fare o il terzo, o sarebbe potuto andare ai supplementari. se la ciappana e il bis del cul e la buttata dentro. Mi spiace, vi dico la verità, io speravo una finale Roma-Atalanta. Però, cioè, solo per mettervi a punto come funziona il karma. Arriva per alcuni prima e per altri arriva dopo. Ma arriva, non vi preoccupate. A buon intenditore, poche parole. Ieri, grazie anche a coloro che hanno partecipato alla meravigliosa live, anche perché per l'ennesima volta il Milan ha smerdato i mezzi di distrazione di massa e Elliot ha vinto l'undicesima causa contro Blue Sky. Un saluto a tutti i paraculi dell'informazione. Bravi, bravi. Invece di guardare da una parte, guardate da noi, invece di guardare dall'altra parte, perché a oggi mancano meno dieci giorni al 20 maggio. 20 maggio è quella data che non ti scordi più, merda nero, blu. Occhio, eh, non te la scordare. Allora, Opus Dea, Corriere dello Sport, Atalanta spaziale. Una finale storica, Roma l'impresa sfuma su autogol, quindi dicevo Atalanta, Bayer Leverkusen, finalissima il 22 di maggio in quel di Dublino. Invece, la conference giocheranno Fiorentina contro Olimpia Kos, che tra l'altro io ricordo che, io ero convinto che, vincesse contro l'Aston Villa. Perché sta facendo un ottimo lavoro, tanto a livello di giovanili, tanto a livello di prima squadra. Io ricordo che abbiamo perso 3-0 la finale di Youth League, il Milan quest'anno, proprio contro l'Olimpia Kos, e la prima squadra, Occio, Fiorentina, perché è da tenere d'occhio, non è tanto semplice. Dunque, storica Atalanta, Roma impresa sfiorata, e due, la gazzetta interista dello sport, e in basso con Se Sao vuole il Milan, perché loro lo sanno, ancora devono filtrare da record, che è uno, non so, dei rotocalchi o quotidiani portoghesi. C'è stato questo incontro tra Concesa e Villas-Boas, e fino al 26 maggio non si saprà nulla, dopo la finale di Coppa di Portogallo, mi sembra. E quindi, per l'ennesima volta, solita stronzata del mainstream, e c'è gente che ancora se li segue, questi qua ci crede. Che bravi che sei, che bambini belli, che si credono gli asini che volano, che credono a Babbo Natale. Bravi, fate bene. Continuando. Poi, l'Inter a Frosinone, pancia piena o pancia vuota? Vabbè, l'Inter che cazzo mi frega, si deve salvare. Il Frosinone aspetta l'impresa, stile Sassuolo, magica, magica, dea, tutti a Dublino, apre il QS. Vi ricordate qual era questa canzone? Dai, vediamo un po'. Io vi faccio un match, sulle note di quella canzone, vediamo se voi da piccoli, soprattutto quelli che hanno la mia età, se guardavano questo cartone animato. La canzone faceva, faceva in un modo, ma io ve lo metto con la dea, invece del nome, eh? Magica, magica, dea, magica, magica, dea, che magie, che magie, eh? Vediamo un po'. Dai, forza, scrivimi in basso, 8 minuti e 40 qua, no, no, ci vedo doppio. 6 minuti e 46, 6, stanno andando avanti intanto il tempo. Qual era la sigla di questo cartone animato? Eh? Magica, magica, dea. Invece era magica, magica? Fammi sapere. Allora, andiamo al nostro Milano. Rimanendo proprio sulla dea, attenzione perché il numero uno del club bergamasco, stiamo parlando del signor Percassi, ha annunciato ai giornalisti presenti ieri in zona mista che Charles de Quetelar lo riscatteremo. Altri 25, 30 milioni e casse del mila per il mercato. Ale, 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 de Quetelar, de Quetelar. La, 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 la. Grazie, grazie, grazie. Allora, ieri ha giocato anche dal primo minuto. È stata una stagione positiva, ovviamente, per quanto riguarda il ex ormai giocatore del Milan. Ha segnato ben 11 gol, messo a segno ben 9 assist. L'ultimo, ieri, proprio per la rete di Lokman. Il Milan, dunque, dovrebbe incassare una cifra che è vicina, 26 milioni di euro. Ma io a sto punto direi, ma scusate, ma voi, sto Lokman non vi piace? Io lo butto lì, eh, perché, messo qua. Eh, dico, guarda, facciamo a pari e patta. Ti tieni De Quetelar e mi dai Lokman. No? Massimo, dai, mettiamo un 10 milioni in più sopra e ci acchiappiamo un giocatore. Ragazzi, vado a un campionato alla Madonna. Dunque, non sarà l'unico, non sarà un'avventura, non sarà l'unico giocatore che il Milan farà cassa con un giocatore che era in pressi. Tra l'altro, c'è anche Alexis Remecker che sta facendo bene anche col Bologna e a fine stagione pagherà proprio 10 milioni per il suo acquisto. Quindi, da quest'altra parte, invece, possiamo lavorare su Zirk Zee, no? Dalla parte, Lokman, Zirk Zee, ci rifacciamo l'attacco. Dunque, poi, sui giocatori in pressito facciamo anche un attimino un punto, no? Perché la speranza è poi che l'affare che avrebbe portato in America Divo Corighi si riapra, quindi permettendo almeno di incassare altri 5 milioni di euro. Non si sa cosa succederà a Balloturè, è possibile che alla fine vada o in Turchia o rimanga nella sua Francia per un paio di milioni di euro. Lorenzo Colombo, una valutazione intorno ai 15 milioni potrebbe essere inserito in qualche affare, per esempio, con il Torino. Chi ha mercato è il centravanti Nasti, che piace al Bologna, e qua possiamo entrare anche in un discorso Zirk Zee, per esempio, con Selemeker, Aum Aum. 6-8 milioni vale il suo ingaggio. C'è Daniel Maldini, che ovviamente, anche lui, sui 5-6 milioni, bisogna vedere se eventualmente i Brianzoli vorrebbero tenerlo, riscattarlo. In ogni caso, il Milan ci tirerà un po' di soldini quest'estate, farà cassa, proprio dalle entrate di questi soldi dei giocatori che erano impresti. Poi, il discorso Conte, perché ieri c'è stata una diretta sul canale di Carletto Pellegatti insieme a Luca Serafini, che voi tutti conoscete, giornalista anche lui milanista, che tra l'altro è opinionista anche a Milan TV, e ha espresso proprio un'eventuale ipotesi, o comunque possibilità, che Antonio Conte realmente potrebbe sedere sulla panchina del Milan, e secondo proprio Serafini il problema non sarebbe l'ingaggio, perché Conte sa benissimo che al Milan non c'è trippa per Gatti. Strano però, perché il Milan sembrerebbe, non vorrebbe spendere più di 4 milioni a stagione per un tecnico, fino a quanto lui si ribasserebbe diciamo questi ingaggi. In ogni caso, cosa ha detto ieri Luca Serafini? Dice, Conte non è certo uno stupido, se mostra apertura verso il Milan non è per richiedere 8 milioni o giocatori del calibro di Mbappé, che tra l'altro ha già firmato con Real Madrid, quindi giocare con Real Madrid, e Allan, che rimane tranquillo e sereno al Manchester City. L'aneratore ha invece manifestato disponibilità su aspetti cruciali come l'ingaggio ai profili dei giocatori da inserire nella squadra, ma questa disponibilità riguarda qualsiasi allenatore interessato alla panchina rossonera, qui non può chiedere chiunque, è un ingaggio top. Allora, poi continuo anche col discorso che riguarda il Napoli, dice, l'operazione Conte costa 20 milioni per il Napoli è diverso, lì c'è dell'Aurendis. Antonio, io ti prometto anche una costa a crociere una volta al mese, tu con tua moglie, la tua famiglia, ti faccio fare tutto il giro del Golfo di Napoli, ti faccio andare a Capri, a Ischia, e c'è la pizza ragazza tutti i giorni da Gennarino, così per fare l'esempio. So per certo che Conte ha dato disponibilità a parlare del suo ingaggio della campagna acquisti tenendo in conto la filosofia di mercato rossonera. Allora è una questione di ingombro, perché se va a Napoli c'è un top player, una garanzia e c'è da rifare tutta una squadra. Ma io non penso che Napoli abbia da rifare una squadra, è vero che Osimane è in uscita, Kvaraschela bisogna vedere se rimane, sembra che rimane. Quindi la squadra è quella praticamente lo scorso anno, è mancato il timoniere, una volta andato via Spalletti, vedete gli errori poi di mandare via certi allenatori, vedete, vedete, è arrivato prima lì Rudy Garcia non ha fatto una beata, ma sì io lo sapevo che non faceva niente, poi arriva Mazzari, infine calza una, ha fatto una cazzata dietro l'altra delle Aurendi, Deleoni, ma che cazzo è combinato? Oggi il Milan tra le squadre con ambizioni è il miglior prospetto per un allenatore, è un club che in questi cinque anni arriva secondo, quarto, primo, in Europa una rosa competitiva, è una società solida con progetti importanti a cominciare dallo stadio, questo è ciò che valuta un allenatore che non è un tifoso. Dunque il problema di Conte è legato quindi a una personalità ingombrante, Serafini dice che potrebbe anche valutarsi questa ipotesi, ma da quello che dicevano due mesi fa la gazzetta Conte è fatta, quell'altro è fatta, quello che mi sa che sono fatti loro in gazzetta, capite? Io, ripeto, io me la sto prendendo molto easy in questi giorni, vedete, sono molto sereno, tranquillo per non farmi l'esaurimento nervoso su sto discorso dell'allenatore. Io credo che se il Milan non è una società veramente di scemi, ve lo auguro, l'allenatore già è stato scelto, con lui già si sta programmando la nuova stagione, questa è la mia speranza, perché se arriviamo al 26 di maggio e ancora non c'è l'allenatore, allora lì sono cazzi da cacare, ragazzi, vi dico la verità, perché vuol dire che c'è solo una gran confusione. Se invece la gran confusione la stanno creando questi mezzi di distrazione di massa malchiamati giornalisti, giornalacci, ovviamente allora è un altro tipo di discorso. Allora, vi dicevo quest'altro nome, il ventunesimo, io ce l'ho tutti segnati, ventunesimo nome, io sto andando avanti, ecco la tabella, voglio vedere fino a quanto arriviamo, ventunesimo, ragazzi, una rosa, una rosa di allenatori abbiamo, ventunesimo allenatore per il Milan, tutto Juve Sport, attenzione cosa tira fuori, e se l'outsider per la panchina rossoniera forse Marco Rose, attuale allenatore dell'Ipsia, col quale ci sono già stati contatti nelle scorse settimane, perché sarebbe stato a doppio canale con l'Ipsia anche per portare Benjamin Button, no, Benjamin Sesco, al Milan, quindi due piccioni con una fava. un applauso a tutti gli Uesport per la fantasia, perché davvero io so che quando arrivano questi periodi qua del calciomercato, tutto, questi sfodano una creatività che è fuori dal comune questi giornalati, ovviamente grandissimi sono, quindi siamo al ventunesimo nome, allora, io di questi ventuno nomi, davvero ormai, a meno che esca fuori, poi da, oh non avete detto né Zidane né Mancini, eh? Io lo dico lì, sono liberi, eh? se volete, la Z, la Z, tutto Uesport, Corriere, mi fate aumentare qua il numero, voglio arrivare una rosa di 25, la rosa di 25 giocatori, voglio arrivare 25 allenatori, eh? Però mi mancano Zidane, Mancini e quali sono altri due che non hanno ancora detto di importanti, fammi sapere se è arrivato al quindicesimo, se ci sono due che non sono stati ancora detti in basso. E alla fine chiudiamo con una bellissima iniziativa di cui anche il Milan prenderà parte. Domenica è la festa di Mamma son tanto felice perché ritorno da te mamma la mamma la mamma la mamma domenica 12 maggio si celebra la festa della mamma e per l'occasione sette club di Serie A hanno organizzato una speciale iniziativa per celebrare questa ricorrenza. E dunque ehm questi sette club ehm tra cui il Milan Cagliari, Genova, Verona, Lecce, Torino e eh Udinese praticamente avranno delle maglie speciali. Infatti sopra il proprio numero ci sarà il nome o il cognome della rispettiva mamma. Una iniziativa che è nata in settimana che è stata prontamente accettata dalla Lega Serie A che ha concesso così la deroga ma ehm non diciamo che questa iniziativa spontanea in ogni caso ha fatto sì che non tutte però le società si siano organizzate per tempo. Il Milan sì che ce l'ha fatta e anche sembra il Cagliari. Quindi tanto Milan che Cagliari che si affronteranno domani sera giocheranno con ehm dietro i nomi delle loro mamme e i cognomi delle loro mamme. Io vi dico che è una bellissima iniziativa sono totalmente d'accordo e pensate che qui in Spagna per esempio a differenza dell'Italia c'è il nome del papà e il cognome del papà e della mamma. Eh mio figlio per esempio che è nato qui in Spagna ha il mio cognome e il cognome della mamma. Il suo nome c'ha due cognomi praticamente e normalmente funziona così. Qui si danno tutte e due cognomi a me mi sembra la miglior soluzione la miglior soluzione perché ragazzi la mamma cioè io sarei stato contento di chiamarmi con il cognome di mio padre e il cognome di mia mamma insieme. Cazzo vuol dire solo il padre non ho capito? Cioè allora sì che lì c'è un patriarcato da questo punto di vista no? E non sono d'accordo invece no la mamma è fondamentale quindi il nome del padre ovviamente perché il seme nasce dal padre quindi a me piace sempre dare dalla causa all'effetto ma l'effetto dove nasce il figlio è la madre se non ci fosse la madre cazzo cioè come se non c'è il padre che dà il seme e se non c'è la mamma sto seme lo buttiamo per aria capito? Però la mamma ha bisogno del seme e del padre quindi le due componenti sono fondamentali nella vita di ogni giorno alla faccia di tutti quei movimenti colorati colorine compagnia bella che ci vogliono mettere contro uomini donne siamo complementari e ognuno ha delle sue caratteristiche che sono fondamentali per far sì che il mondo vada avanti quindi bellissima iniziativa da parte di queste società e sono curioso di vedere adesso domani sulle maglie del Milan i cognomi e i nomi delle mamme dei nostri giocatori e allo stesso modo io quel giorno cioè domenica ovviamente a tutte le mamme del mondo ovviamente mia mamma Pina su tutti su tutte scusate e farò un uno speciale augurio a tutte perché le mamme ragazzi come il papà io ve lo dico perché mio papà voi sapete è scomparso due anni fa ed è caduta una colonna nella mia vita cioè proprio ma di quelle pesanti però la mamma è la mamma la mamma è l'accoglienza la mamma è mamma che va a giariscere cioè che ve lo dico a fa non penso lo sappiate dunque io vi auguro un felice venerdì non lo so ragazzi se oggi c'è fatemi vedere un attimo qua in diretta mentre sto facendo questo conferenza stampa di Pioli oggi la fa Pioli la conferenza stampa o no fa vedere se la fa oggi perché poi devo vedere se riesco oggi a farla voi sapete venerdì per me è una giornata un po' a cacchium a livello familiare conferenza ma la fa oggi la conferenza stampa Pioli o no ah sì 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 alle 14 alle 14 eh vediamo se riesco oggi pomeriggio o in prima serata o in prima serata non lo so vedo come mi organizzo perché io venerdì ce l'ho un po' complicato eh se non riesco oggi la faccio domani comunque anche in mattinata si può fare una live dove si unisce come l'altra volta analisi della conferenza stampa insieme alla rassegna stampa si potrebbe fare anche così domani eh nella preparazione poi appunto di questa partita di Milan Cagliari e e oggi oggi non lo so se usciranno noi i contenuti ho detto per me il venerdì è una giornata un po' un po' particolare a livello di movida mia personale eh familiare e se riesco preferirei tirar fuori uno di dell'altro canale la tribuna il pallone perché eh c'erano delle cose rimaste in sospeso quindi vediamo però oggi vi assicuro non vi assicuro niente quindi prendete per buono questo video fate sì che i vostri like le vostre iscrizioni le vostre condivisioni gli abbonamenti anzi grazie a tutti che coloro che si stanno abbonando da soli 099 ringrazio anche ieri poi quando erano in live sono entrati nuovi membri del canale neanche un caffè al mese per poter solidarizzare e contribuire comunque al lavoro non di questo ma di tre canali il quarto ripeto dell'inuità di calcio mi viene incorporato qui solo per abbonati e quindi tre canali questo la tribuna del pallone e saggezza popolare ma ti vuoi iscrivere a saggezza popolare cioè dei tre è il canale più intelligente ed è quello con me in iscritti ma quello ovviamente è lo specchio dell'umanità nella quale viviamo vogliono solo apparenza superficialità e di profondità troppo difficile un bacio agli amici un forte abbraccio a tutti gli amici sempre Forza Milano comunque e comunque vi auguro un felice venerdì e noi ci sentiamo alla prossima ciao